Buongiorno amici sempre in diretta da Villa Sambu con provincia di Treviso a Preganziol con il reality e academy di Miss Venice Beach quinta edizione del reality, quattordicesima edizione del concorso Ora inizia il corso dedicato al colore Il colore influenza le nostre giornate, influenza i nostri pensieri, influenza il nostro modo di essere e di fare Eh sì, ma voi sapete qual è il vostro colore? Il colore che più si addice alla vostra carnagione? Il colore che più vi si addice durante un evento particolare? Io lo so qual è e voi andiamo a scoprire qual è il colore delle nostre concorrenti con il corso di armocromia di Elena Libanori Elin One Buongiorno a tutti e ben arrivati al terzo giorno di reality qui in diretta da Villa Sambu con a Preganziol in provincia di Treviso Stiamo portando avanti quello che è il reality di Miss Venice Beach Ma quest'oggi iniziamo con Ellie Noire Image, ovvero Elena Libanori, il corso di armocromia La prova di oggi per le nostre ragazze è quella di indovinare la stagione, quindi i colori che si abbinano meglio al loro caposquadra In palio tre punti extra, quindi Elena io ti lascio la parola Mi presento, sono Elena, una consulente d'immagine Mi occupo di armocromia, di consulenza d'immagine a forma del corpo, forma del viso, stile, uomo, donna Quindi diciamo, quando si inizia un percorso seguendo le nostre immagini Si parte da una cosa e poi lo sviluppa in tutto il nostro essere Abbiamo ultimato il corso di armocromia Tutte le squadre hanno indovinato la stagione delle loro caposquadre È stato divertente e simpatico Spero che abbiano portato un po' di colore in più nella loro vita e soprattutto nel loro armadio Un applauso e un ringraziamento ad Ellie Noire Un ringraziamento a voi, grazie ragazze Bravi ragazze, ci piace davvero tanto vedere questo mondo a colori così come ce l'ha descritto Ellie Noire Ma voi siete pronte per domani? Eh sì, perché domani è il 13 settembre E se non ricordo male, c'è la finalissima! Pronti per eleggere la 14esima Miss di Miss Venice Beach Noi siamo pronti, e voi? Ma prima andiamo a vedere come siamo messi con i punteggi delle squadre Eh sì, perché quest'anno abbiamo diviso le 32 finaliste in 4 squadre Capitanate dalle nostre Miss in carica Lorenza Busillo, Emma Rossato, Anastasia Orru e Rossella Lorenzi Che le avranno diciamo aiutate in tutte le prove del corso dei reality Vediamo a che punto siamo e poi si parte per la finale Eccoci siamo, il nostro cartellone delle squadre di Miss Venice Beach 2024 Questi sono i nomi che hanno scelto le nostre concorrenti Le 7 meraviglie del mondo, le veline Power Girls and Celebrity Angels Abbiamo visto che nel corso di make up le ragazze hanno portato a casa Un punto per le veline, tre per Girl Power Poi per la prova di Masterchef 2, le 7 meraviglie del mondo Un punto le veline e un punto Celebrity Angels Ora adesso invece andiamo a completare quello dell'armocromia Ovvero tutte le squadre hanno indovinato la stagione del loro caposquadra E quindi andiamo a mettere un punto per ogni squadra Ragazzi allora a fine giornata andremo a scoprire quale sarà la squadra vincente